Quali sono gli effettivi di voto, Presidente? Il voto vuole portare a casa l'Italia? L'Italia non ha qualcosa da portare a casa contro gli altri o a differenza degli altri. Si tratta di prendere atto del messaggio molto chiaro che è arrivato dalle elezioni europee, è un messaggio che fa riflettere, che fa riflettere per la forza e il significato che ha avuto e capire che se vogliamo bene all'Europa dobbiamo darci una smossa e cercare di preoccuparci un pochino di più della crescita e della lotta alla disoccupazione di quanto abbiamo fatto sino adesso. Quindi non c'è una posizione dell'Italia contro gli altri, c'è la posizione dell'intero gruppo socialista e democratico europeo, c'è una posizione del PD che è il partito che ha preso più voti di tutti in Europa, qua il numero assoluto di voti tra l'altro di tutti, che è quello di dire che tutti insieme scommettiamo sulla crescita e preoccupiamoci un pochino di più dell'Europa delle famiglie e non soltanto dell'Europa delle burocrazioni. In termini concreti cosa vuol dire? Adesso ve lo spieghiamo in dettagliato documento.